Cari amici, siamo usciti da poco tempo da un incubo che è durato per due anni sostanzialmente, ma sembra che l'incubo non sia finito, che ci sia la possibilità di un ritorno a una situazione pandemica e che questo possa partire questa volta dall'Italia. Sembra uno scenario fantascientifico e invece è qualche cosa che potrebbe accadere. Ne parliamo oggi con Franco Fracassi che è in collegamento con noi. Ciao Franco. Ciao, ciao a tutti. Allora Franco, qualche giorno fa da Visione TV tu hai lanciato un allarme relativo a un laboratorio di Pesaro che rappresenta una minaccia per la salute dei cittadini italiani. Potrebbe rappresentare una minaccia per la salute dei cittadini italiani perché in questo laboratorio che è stato deliberato di fare a Pesaro vengono utilizzate quelle stesse tecniche in sostanza che hanno portato dal laboratorio di Juan il Covid in tutto il mondo. Vuoi raccontarci sinteticamente che cosa sta succedendo? Perché hai lanciato questo allarme? Intanto partiamo a quel inizio. Per l'inchiesta che ho realizzato per il mio ultimo libro che si intitola Biolab, a un certo punto ho deciso di dedicare un capitolo all'Italia perché ero venuto a sapere di un biolaboratorio che era stato aperto, biolaboratorio militare statunitense aperto a Sigonella in Sicilia e poi avevo seguito la vicenda del laboratorio di Trieste che non è un laboratorio militare, è un laboratorio universitario finanziato in parte dal Ministero dell'Università e poi finanziato da una rete internazionale di università. La rete internazionale di università non vuol dire assolutamente nulla, ho cercato di capire che cos'era questa rete da chi era finanziata e ho scoperto che dietro c'erano il Pentagono e la CIA. Quindi sulla scorta di questo ho detto beh, fammi vedere se gli americani hanno intenzione di fare altro sul nostro territorio e ho scoperto che il Pentagono ha stilato un documento in cui si augurava l'apertura di tre nuovi laboratori, uno a Pesaro, uno a Pisa e il terzo all'Aquila. Biolaboratori civili stiamo parlando, non stiamo parlando di cose, almeno non credo che saranno strutture militarizzate, insomma, biolaboratori civili dove lavorano normalissimi scienziati dove apparentemente si fa ricerca per migliorare, unicamente insomma per migliorare la nostra, non so, resistenza ai virus, tante capacità che noi possiamo esprimere e così via. Invece, invece, oltre questo, perché faranno anche questo, sono tutti quanti biolaboratori zooprofilattici, cioè biolaboratori animali, è fondamentale questo perché i virus si trovano negli animali, quelli che interessano al Pentagono, quelli che interessano ai militari. Allora ci sono questa rete di tre laboratori che il Pentagono vorrebbe costruire o vorrebbe, diciamo, governare in qualche modo e questi tre biolaboratori, tutti e tre civili, tutti e tre non di massima sicurezza, cioè di livello tre, che è un livello inferiore rispetto a quello di massima sicurezza, quindi sono meno sicuri degli altri biolaboratori. Dovrebbero fare che cosa? Allora, il Pentagono cos'è che vuole che si faccia in questi biolaboratori e il Pentagono vuole che o si producano direttamente oppure si collabori alla produzione di armi biologiche. Le armi biologiche sono vietate dal 1975 dalla Convenzione di Ginevra, sono armi di distruzione di massa, esattamente come la bomba atomica o armi chimiche. E questi, diciamo, queste armi, queste armi biologiche sono malattie, sono malattie tipo la SARS-CoV-2, sono malattie che a base di virus o di batteri che sono in grado, come abbiamo visto, come la SARS-CoV-2, come Omicron, di diffondersi in tutto il mondo e, nel caso della SARS-CoV-2, di mettere in ginocchio l'intero pianeta, anche perché ci mette del suo, anche l'OMS. Allora, in seguito a questi input che c'era stato da parte del Pentagono, ho cercato di capire se effettivamente qualcosa stava accadendo. Cioè, se l'Italia, allora, c'è un potenziale allarme, questo potenziale allarme si sta traducendo in qualcosa di concreto? Beh, ho scoperto che a Pesaro effettivamente si sta traducendo in qualcosa di concreto, perché recentemente il Comune di Pesaro che cosa ha fatto? Ha votato una delibera comunale e in questa delibera comunale il Comune di Pesaro ha autorizzato la vendita di un terreno pubblico. Fin qui è tutto tranquillo. Il punto che nella delibera, delibera votata da 24 consiglieri su 27, cioè 24 su 27 consiglieri hanno votato... Maggioranza assoluta. Esattamente. Solo una consigliera ha votato contro. Allora, in questa delibera c'è scritto che la vendita al terreno pubblico per la creazione di un laboratorio di biosicurezza BSL-3, ovvero esattamente quello che chiedevano gli Stati Uniti, sempre a Pesaro, quindi fino a adesso coincideva tutto. Allora, a chi lo venderebbero? All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche Togo-Rosati, che è un istituto pubblico, ma come anche l'Università di Trieste è un istituto pubblico, non è che li ferma in questo senso. Allora, poi sotto nella delibera comunale c'è scritto cosa si intende per un laboratorio di biosicurezza BSL-3, cioè che cosa vorrebbero fare? Una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell'uomo. Allora, non so come dire, lo scrivono nella delibera comunale, cioè questi qui prendono agenti virali pericolosi per la salute dell'uomo e li trattano attraverso esperimenti di guadagno di funzione, cioè trasformano gli agenti virali già pericolosi e li trasformano in cose ancora più pericolose, perché è questo che fanno gli esperimenti di guadagno di funzione, dove in un laboratorio che non è di massima sicurezza, anche se ovviamente nella delibera c'è scritto dopo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico, ma BLS-3 non è di massima sicurezza. Tra l'altro anche quelli di massima sicurezza non garantiscono affatto che non ci siano incidenti e problemi. Perché in un libro precedente i misteri di Wuhan avevo trattato, avevo raccontato di un rapporto fatto sempre dall'autorità degli Stati Uniti, che si basava su una ricerca che ufficialmente lo Stato, gli Stati Uniti, aveva fatto su tutti i loro biolaboratori militari, BLS-4, quelli di massima sicurezza, quelli statunitensi sono i più sicuri al mondo. Quindi tutti i laboratori più sicuri al mondo, loro per cinque anni li avevano monitorati per cercare di capire quanto fossero realmente sicuri. E avevano scoperto che in questi biolaboratori ultrassicuri accadeva un incidente ogni giorno e mezzo. Ovviamente tra incidenti più gravi e meno gravi, ma comunque il numero è di per sé inquietante. Sì, saremmo stati travolti da ogni sorta di epidemia, saremmo trasformati in un mondo tipo Walking Dead, insomma, è normale che sia così. Allora, però, capiamoci, nei biolaboratori più sicuri al mondo c'è un incidente ogni giorno e mezzo, perché poi gli incidenti sono sufficienti, non lo so, un addetto alle pulizie che pulisce con meno accuratezza un giorno un filtro dell'aria. È sufficiente uno dei tanti dipendenti che un giorno magari si è divorziato, è stato tradito, che cacchio ne so io, da cosa qualsiasi, per cui non ci sta con la testa, no? Gli è morta la mamma o il papà, insomma, non c'è con la testa e si dimentica di fare esattamente le procedure. Attivare una procedura di sicurezza prevista, ammesso che l'attivazione delle procedure di sicurezza sia di per sé sufficiente a evitare problemi e che questi problemi avvengano in maniera non prevista e non ci possa essere, non andiamo nel complottismo per l'amor di Dio, ma che non ci possa essere invece un preciso disegno. Facciamo un attimo un breve riepilogo. Allora, che cosa è successo? Il Pentagono dichiara che auspica la creazione all'interno dell'Italia di tre biolaboratori per lo studio di agenti patogeni pericolosi. Lo studio e la realizzazione in vitro, diciamo, di agenti patogeni pericolosi. Il comune di Pesaro accetta la delibera di vendita di un terreno dove dovrebbe sorgere un biolaboratorio che fa esattamente questo, quindi che crea questi virus chimera che dagli animali possono trasformati debitamente attraverso una serie di procedure contagiare anche l'uomo. I consiglieri del comune di Pesaro, a maggioranza bulgar, dicono sì, va bene e con l'unica eccezione di una consigliera con cui noi ovviamente siamo in contatto e accettano questa delibera in cui viene scritto nero su bianco che questo laboratorio che oltretutto è di livello di sicurezza 3, quindi non il massimo livello di sicurezza, faccia questi esperimenti su questi virus pericolosi in Italia a Pesaro, senza che in sostanza né l'opinione pubblica ne sia informata, né ci sia nessuna sorta di dibattito. Tutto questo poco dopo essere usciti dall'incubo del SARS-CoV-2. È corretta questa ricostruzione? Esattamente. Tu facevi riferimento all'OMS perché l'OMS è stata sicuramente, ha avuto un ruolo di primissimo piano nefasto durante la fase del Covid. Perché nefasto? Innanzitutto perché tutte le linee guida si sono rivelate essere totalmente disfunzionali, dal divieto delle autopsie a tutta una serie di cose su cui poi spesso l'OMS ha dovuto fare retromarcia, ma fatto sta che gli stati si sono adeguati, in buona sostanza la maggioranza degli stati si sono adeguati a quelle che erano all'epoca le linee che l'OMS dava. Ma in futuro la questione potrebbe essere anche più dirimente perché l'OMS vorrebbe più potere sugli stati. dico bene. Esattamente. Più che l'OMS sono gli stati stessi che vorrebbero cedere più potere all'OMS. Ci sono stati due luoghi in cui gli stati hanno espresso, almeno una parte degli stati hanno espresso questo desiderio. Uno è il G20 che si è svolto in Indonesia, a Bali, e il secondo direttamente in sede dentro l'OMS. C'è stata una richiesta di un gruppo di stati. Che cosa hanno richiesto questi stati? Allora, stati tra cui vorrei sottolineare l'Italia fa parte. Cioè l'Italia, il governo Meloni, è uno dei promotori, uno dei paesi promotori di queste due iniziative e voterà a favore, a meno che non cambi in idea. Allora, la prima, tutte e due riguardano l'eventualità in cui l'OMS possa dichiarare una nuova pandemia. Nella prima, la prima iniziativa dice, se l'OMS dichiara una nuova pandemia, l'OMS si impossessa automaticamente della gestione di tutti i sistemi sanitari del mondo. Quindi non ci sarà più il Ministero della Salute italiano che dovrà decidere di qualsiasi cosa che riguarda la gestione della pandemia, dalle chiusure alle aperture del, non so, del zone rosse, lockdown, mascherine, qualsiasi cosa possa venire in mente che noi abbiamo vissuto in questi due anni, sarà, o gli ospedali e così via, ma sarà l'OMS a farlo. Quindi sarà un organismo che noi non, per cui non abbiamo nessun tipo di controllo, no? Già è complicato. È un organismo che in nessun modo è rappresentativo di alcuna volontà democratica di nessuno. C'è una istituzione tecnocratica e tra l'altro partecipata da una serie di privati, quindi anche con degli enormi, enormi conflitti di interesse. Sì, sì, no, allora, intanto appunto è un'entità su cui noi non possiamo esercitare nessun tipo di controllo e nemmeno di pretesa, perché stanno, cioè, vai a convincere l'OMS facendo manifestazioni a Rieti, a Roma o a Milano o a Lecce, no? Che dire, frega l'OMS delle manifestazioni, quindi non puoi fare nulla su di loro, non puoi premere in nessun modo. Secondo, l'OMS è una sorta, anche se dovrebbe essere un organismo internazionale pubblico, in realtà è una sorta di multinazionale, ovvero ha un vero e proprio consiglio di amministrazione, questo consiglio di amministrazione, diciamo, siedono nel consiglio di amministrazione gli azionisti dell'OMS, cioè chi dà i soldi, e in proporzione a quanti soldi si danno. Beh, la maggioranza dei soldi versati all'OMS vengono da soggetti privati e non dagli stati, quindi non sono nemmeno i governi che in qualche modo, come almeno un organismo internazionale dovrebbe essere governato dai governi, no, sono governati dai privati, questi privati si chiamano, sono singoli cittadini come Bill Gates, che è il più grande azionista dell'OMS, oppure dalle principali case farmaceutiche, allora è evidente che le case farmaceutiche in caso di nuova pandemia premeranno in tutti i modi, visto che possono gestire, possono fare a quel punto quello che gli pare a loro di ogni paese del mondo, premeranno per l'obbligo vaccinale in tutto il mondo, cose di questo genere. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, questa proposta prevede anche l'istituzione, proposta di cui, ricordiamolo, l'Italia con il governo Meloni si è fatta portabandiera, prevede anche l'istituzione di un Green Pass universale, ho ragione? Questa è una seconda proposta, sono due cose differenti. Ah, ok. La seconda proposta invece è quella che è venuta dal G20, e che anche questa dovrà essere votata in seno all'OMS, ovvero in caso di pandemia scatterebbe automaticamente il Green Pass universale in tutto il mondo. E su questo l'Italia come si è posizionata? Sempre favorevole. Ricordiamolo, la Meloni, Salvini, Berlusconi, abbiamo detto mai più Green Pass, e adesso si stanno spendendo per imporre un Green Pass universale, che però non sarebbe in nessuna maniera dipendente dalle decisioni dello Stato italiano, del Ministero della Salute, ma dell'OMS e quindi degli azionisti privati dell'OMS. Questo è un fatto di una gravità spropositata. La buona notizia è che al momento, né una né l'altra proposta, godono della maggioranza dei voti. Votano 100, non vorrei sbagliarmi, 185 paesi a occhio, e mi pare fossero 72 paesi favorevoli, quindi la maggioranza sono 90, se sono 135, sono 98. 98, 98 è la maggioranza, quindi gli mancano dei paesi. Però da quello che è emerso… 88, quindi non sono così lontani, perché se ne hanno 70, gli mancano… Ne hanno 72, gli mancano insomma non così tanti voti. Sappiamo anche quanto è forte la loro capacità di condizionare, i governi, gli stati. In questi mesi, soprattutto vari paesi africani, hanno denunciato le enormi pressioni che gli Stati Uniti stanno mettendo su questa… per ottenere un voto favorevole. L'Africa è più tendente a un'idea contraria di questo, perché è… come si dice… l'influenza maggiore sull'Africa ce l'hanno Russia e Cina rispetto a Stati Uniti e Regno Unito o Francia, che sono comunque molto influenti. Però la pressione è enorme, la pressione è enorme. Perché la… c'è un motivo per cui la Cina non vorrebbe questa cosa, perché la Cina, al di là di quello che ha fatto in casa, insomma le chiusure e tutto il resto, ma la Cina vive di commercio internazionale, cioè ha bisogno del commercio internazionale, è un green pass universale, ammazzerebbe l'economia cinese, o quantomeno la metterebbe in difficoltà, quindi a parte ammazzerebbe tutte le economie, però insomma quella cinese è più delle altre. E aggiungerei anche il fatto che oltre alle ovvie implicazioni economiche che tu sottolineavi, c'è anche la questione della sovranità, cioè i cinesi, esattamente come i russi, non tollerano che Bill Gates e gli azionisti di Pfizer decidano se in Cina cosa e possono fare i cinesi a casa propria e abbiano di fatto un potere assoluto su un miliardo e quattrocento milioni di cinesi. Ma tu dicevi prima, appunto, se noi deleghiamo tutto questo potere a un organismo di fatto privato come l'OMS, non ha senso a quel punto, non c'è nessuno con cui protestare, non c'è nessuno su cui fare pressioni laddove le decisioni non fossero coerenti con i desideri della maggioranza. Su questo punto c'è un fatto che è molto importante, perché tu accennavi che il Consiglio Comunale di Pesaro su 24, su 27 hanno votato a favore, una sola consigliera ha votato contro, non so se tu ricordi il nome, a me momentaneamente mi è passato di mente, ma si è immediatamente costituito un comitato che sta organizzando la resistenza rispetto a questa situazione davvero di una gravità estrema. Ora, questo secondo me è un punto molto importante per tutta una serie di ragioni. La prima è che, come dicevano i vertici dell'Unione Europea, noi procediamo così, mettiamo una decisione sul tavolo, se vediamo che le persone non reagiscono andiamo avanti, se viceversa si accorgono di quello che stiamo facendo torniamo indietro. Ovviamente i fatti di Pesaro non sono noti alla maggioranza dell'opinione pubblica. Una volta che fossero noti, io credo che ci sarebbero davvero centinaia e centinaia di migliaia di cittadini che all'idea che sotto casa si facciano esperimenti su virus pericolosi in combutta con il Pentagono non sarebbe assolutamente tollerabile. Ora, questo comitato con cui noi siamo in contatto, tu sei in contatto, sta organizzando una grande manifestazione per i prossimi mesi e io penso che questo sia estremamente importante anche dal punto di vista della situazione politica italiana. Noi abbiamo una resistenza che si è sfilacciata, contrapposta e che alla fine è risultata incapace di incidere rispetto alle forze politiche che si sono dimostrate, il caso della Meloni è agghiacciante, si sono dimostrate totalmente inaffidabili anche quando poco prima delle elezioni giurano mai più Green Pass, poco dopo si fanno portabandiera del Green Pass universale. questa è un'occasione per fermare questo scempio che vogliono fare a Pesaro e se lo si ferma a Pesaro sarà difficile poi farlo in un'altra città perché scatta chiaramente il principio dell'emulazione e anche per riprendere un percorso di lotta unitario non più con obiettivi elettorali che sono inevitabilmente divisivi ma con obiettivi strettamente politici. Quindi io credo che sia assolutamente indispensabile che tutto il mondo della resistenza costituzionale su questo tema faccia una campagna di comunicazione e organizzi una gigantesca manifestazione perché su questo tema veramente anche quelli che ci odiano verrebbero a manifestare sia per bloccare questo rischio enorme sia per riunire nuovamente sotto obiettivi strettamente politici e non partiti elettorali quei milioni e milioni di italiani che oggi sono abbandonati quindi in mezzo a questa notizia terribile ci sono anche i germi di una possibile risposta e di una possibile riscossa dei movimenti democratici in questo paese pensi che si possa lavorare in questo senso? Penso che si possa lavorare in questo senso Allora, noi ci troviamo di fronte a un'occasione unica per tre anni abbiamo combattuto contro il governo contro anche istituzioni internazionali ovviamente senza riuscire a ottenere assolutamente nulla perché è complicato non è semplice costringere il proprio governo a ribaltare le proprie decisioni lo si può fare solamente di fronte a una prova di forza di massa enorme in Francia ne sono capaci in Italia abbiamo capito che non è pane per i nostri denti questa volta invece la cosa è enormemente più semplice perché noi non abbiamo a che fare con un governo noi abbiamo a che fare con un consiglio comunale di una, diciamo, medio piccola cittadina italiana insomma 100.000 abitanti non è il consiglio comunale di Roma o di Milano ma un consiglio comunale relativamente di una città relativamente piccola allora perché abbiamo a che fare con un consiglio comunale? perché il biolaboratorio per esistere deve avere un luogo senza il luogo non esiste la delibera comunale che ha stabilito il luogo già c'è ma questo luogo non è ancora stato venduto a chi lo dovrebbe acquistare e quindi se non viene venduto il biolaboratorio non si può fare quindi il comune è il ventremolle di questa filiera perché il ventremolle? perché in una città delle dimensioni di Pesaro i consiglieri comunali gli assessori insomma vivono la vivono la la quotidianità della città a Roma io vivo a Roma non non so nemmeno chi siano i miei assessori e i miei consiglieri comunali ma noi a Roma non sappiamo neppure chi siano i vicini di casa io non so chi abita al piano sotto ma lì è diverso certo esattamente lì vivi cioè non è che non è una di quelle città dove si conoscono tutti però insomma diciamo vivi in un luogo in cui incontri persone che tutti i giorni insomma molto spesso incontri persone che conosci soprattutto se vai in centro e così via allora in una realtà del genere la il rapporto tra politica e cittadini è molto stretto c'è un da parte della politica c'è una chiara percezione della volontà dei cittadini perché è un qualcosa che loro riscontrano basta che escono di casa e allora al Pesaro ci saranno le elezioni questi questi consiglieri comunali devono essere pur rieletti in questo momento Pesaro non è cosciente di quello che sta per accadere nel senso se ne è parlato in città ma insomma il fatto che se ne sia parlato non vuol dire che i pesaresi sono a conoscenza o sono a conoscenza diciamo nel dettaglio di quello che succede perché ovviamente gli avranno in piega stricciato che è una cosa sicurissima nulla di cui preoccuparsi è un laboratorio veterinario praticamente una sorta di posto dove porti il gatto e ovviamente l'informazione in Italia è talmente indegna che quello che riportano è talmente falsato che effettivamente chi non ha accesso ai canali della libera informazione non ha idea di che cosa stia succedendo realmente ma io sono convinto che nel momento in cui noi riuscissimo e noi dobbiamo in questa fase essere tutti uniti tutti i canali tutti i soggetti della libera informazione tutte le associazioni è veramente una lotta che riguarda tutti e che va anche oltre l'Italia perché quello che è successo da noi è nato in Cina quindi non è un problema di Pesaro non è un problema delle marche non è un problema dell'Italia non è un problema dell'Europa è un problema globale su questo tema io credo che si mobiliterebbero anche gli elettori del PD se fossero informati quindi noi abbiamo un'occasione unica forse l'ultima perché una volta che questi propositi dell'OMS del Pentagono fossero, divenissero realtà noi ci troveremmo nella condizione che da un momento all'altro potremmo essere chiusi potremmo essere obbligati a tutta una serie di comportamenti ma su questa battaglia io credo che ci possiamo compattare tutti e sono convinto che si possano portare davvero un milione di persone a Pesaro e io vorrei vedere il consigliere comunale che magari è il farmacista del quartiere o è il commercialista della zona di fronte a un milione di persone che vanno lì a protestare e a manifestare la loro rabbia è qualcosa su cui veramente siamo tutti chiamati a unirci perché sarebbe davvero un crimine non rispondere a questa che è nei fatti anche veramente uno schiaffo una provocazione ai cittadini in una fase in cui appunto la politica è anche profondamente delegittimata la stensione del 60% a Milano e quasi più del 60% a Roma dimostra che nessuno si fida più dei politici anche perché lo vediamo quello che fanno promettono e poi fanno esattamente il contrario quindi un movimento di massa ci sono le condizioni per un movimento di massa se agiamo in maniera coordinata, efficace e professionale quindi è... scusami, due elementi che spero che mettano sufficiente strizza per far muovere le persone chi ascolterà questa cosa allora io per puro esercizio non so se sono un po' autistico che cosa comunque mi sono messo ho preso una mappa del mondo e su questa mappa del mondo ho segnato i luoghi dove sono apparsi i focolai delle epidemie di virus di batteri i principali focolai di epidemie di virus di batteri negli ultimi 15 anni nel mondo SARS, Ebola, tutti questi qualsiasi cosa la peste l'antracee fate ovviamente qualche cosa allora li ho segnati dopodiché ho segnato sulla stessa mappa i luoghi dove si trovavano dove si trovano insomma di cui si conosce l'ubbligazione i biolaboratori militari degli Stati Uniti d'America beh le crocette coincidono ma non dirmi ovunque c'è stato un focolaio di virus di batterio di qualsiasi tipo di malattia virus o batterio che sia si trova un biolaboratorio là vicino vi faccio due esempi uno che risale a qualche anno fa ovvero Ebola non so se ti ricordi quando ci fu come no di Ebola in Africa beh ovviamente noi bloccammo i voli da lì insomma e il mio pensiero era vabbè credo che l'abbiamo pensato un po' tutti quanti beh Ebola da quelle parti c'è ogni tanto accade poveracci no e invece andando a vedere nello specifico ho scoperto che quella variante di virus Ebola che è apparsa mi pare in Ghana a un posto d'Avorio non mi ricordo esattamente dove è in realtà si trova a 2000 km di distanza da lì 2000 km di distanza mentre il biolaboratorio statunitense si trova a pochi km di distanza da dove c'è stato questo dove c'è stato questo focolaio e in quel biolaboratorio che cosa fanno? sviluppano armi sulla base di Ebola esattamente quello che è successo quello che è successo nel laboratorio di Juan cioè loro ci hanno detto il pangolino il pipistrello il mercato del pesce caso strano c'era proprio lì un biolaboratorio che studiava come in quel caso il virus SARS la seconda cosa invece è recentissima cioè una cosa di questi giorni allora in questi giorni l'OMS ha indetto una riunione straordinaria perché è molto preoccupata e deve decidere se dichiarare questa famosa pandemia oppure no di che cosa si tratta in Guinea Equatoriale si è sviluppato un focolaio del morbo di Marburg la febbre emorragica di Marburg la febbre emorragica di Marburg è da che si conosca il virus più mortale che ci sia uccide l'88% degli ospiti allora in Guinea Equatoriale sono morte nove persone per un seguito a questa l'apparizione del morbo di Marburg bene in Guinea Equatoriale c'è un biolaboratorio statunitense e è emerso che alcune case farmaceutiche stanno sviluppando non so a che stadio stiano un vaccino mRNA per il morbo di Marburg non un vaccino classico che è quello che tutti i vaccini tutta quanta la vita sta a posto no tipo quello che abbiamo vissuto con la SARS-CoV-2 perché un vaccino del genere perché il morbo perché un vaccino del genere è un vaccino militare il morbo di Marburg se è un morbo di Marburg chimera e anche ha le stesse caratteristiche dell'mRNA quindi si riescono in qualche modo cioè diciamo una sorta di antidoto che può contrastare per un paio di mesi ci può proteggere per un paio di mesi dal virus quindi c'è proprio un'industria su questa cosa qui oltretutto allora queste cose accadono in continuazione e vorrei aggiungere un ultimo elemento Pesaro è una città sismica quindi abbiamo visto quando c'è stato due mesi fa il sisma a Pesaro a dicembre adesso non mi ricordo esattamente insomma l'ultimo sisma c'è stato pochissimo tempo fa e c'è un ulteriore elemento il terreno il terreno dove dovrà sorgere è un terreno alluvionale è un terreno che si allaga con facilità non solo oltretutto quel terreno è di terra di riporto compattata alluvione in una zona alluvionale e in una zona sismica quindi ci sono una serie di elementi sconcertanti anche sulla scelta proprio del lotto di terreno però tu prima hai usato un termine detto strizza che è romano per paura per chi non non fosse all'interno del raccordo anulare che secondo me è un po' una chiave del motivo per cui questa questa lotta contro questi biolaboratori in Italia potrebbe avere successo e cioè che si utilizzano le loro stesse armi un po' il principio del Kung Fu che utilizza la forza dell'avversario per ribaltarlo a noi ci hanno instillato magari non la minoranza più consapevole ma la massa in Italia è terrorizzata è stata terrorizzata dai virus dalle malattie girano ancora alcuni con le mascherine chiusi in macchina questo significa che proprio quel tipo di paura è profondamente radicata all'interno di una considerevole parte dell'opinione pubblica mentre invece la parte che fa riferimento al mondo per così dire della libera informazione eccetera è profondamente contrario per motivi differenti a questo tipo di operazioni su la diffusione della conoscenza di quello che sta avvenendo io credo che si potrebbero mettere insieme per la prima volta no vax e si vax perché tutte le signore che girano in mascherina in macchina tutti quelli che non vanno a trovare lo zio perché hanno paura del contagio eccetera se gli dici che stanno aprendo un biolaboratorio in cui studia in cui creano lavorano su virus pericolosi per gli animali e per l'uomo preferisci che lo facciano o non lo facciano io credo che il 110% degli italiani direbbe meglio di no lasciamo perdere per cui veramente ce l'hanno servita su un piatto d'argento è un in un certo senso un gol a porta vuota che non possiamo mancare e dobbiamo da qui alle settimane che ci separano dalla data scelta da questo comitato che è il primo maggio appunto scelta da questo comunicato da questo comitato dal comitato contro il biolaboratorio di Pesaro per una grande manifestazione in queste settimane dobbiamo lavorare a testa bassa perché secondo me su questo tema veramente si possono cambiare i rapporti di forza e anche questo questo governo volta gabbana che al momento sembra forte ma sembra forte soltanto perché l'opposizione è ancora più debole cioè noi abbiamo parlato meglio la stampa ha parlato del trionfo della Meloni che ha preso il 33% alle regionali sì ma il 33% se votano il 30% delle persone è il 10% il fatto è che quegli altri sono ancora peggio e quindi prendono ancora meno ma sono consapevoli della loro debolezza un movimento di massa su questo si può creare e quindi dobbiamo davvero darci da fare Franco io ti ringrazio molto per il tuo tempo su questo noi comunque lavoreremo posso dare un'altra informazione come no scusami certo allora nel insieme a Becciolini Stefano Becciolini lui insomma si è messo a spulciare il PNRR ah è vero sì e ha scoperto che ti dico pure all'articolo 5 del della prima parte del PNRR ci è scritto che lo Stato italiano ha stanziato il PNRR ha stanziato una parte dei soldi per per aprire in ogni regione italiana istituti zooprofilattici sperimentali ogni regione italiana adesso non so se questa pure questa è un'idea venuta agli americani vorrei sottolineare che il nostro PNRR è stato realizzato dalla McKinsey che è una società di consulenza statunitense la società di consulenza la più grande del mondo quella che condiziona il comportamento di tutti gli stati e si fa pagare oltretutto per farlo non si è fatta pagare niente 25 mila euro per fare questa cosa che è una di quelle cose assurde ma che hanno permesso di non passare attraverso lo screening degli appalti insomma perché l'appalto è talmente basso che diciamo è stato assegnato ad personam da Mario Draghi alla McKinsey e la McKinsey lavora sostanzialmente per il grande capitale degli Stati Uniti America quindi tutte le grandi società finanziarie che ovviamente sono proprietarie di Big Pharma ed è legata a doppio filo agli servizi segreti degli Stati Uniti cioè alla CIA quindi loro non hanno suggerito l'hanno proprio fatto loro cioè il nostro PNRR l'hanno fatto loro allora vedere all'inizio del PNRR una indicazione in cui si dice che in tutti in tutte le regioni d'Italia vorrebbero aprire un istituto zooprofilattico sperimentale quando appunto la fonte e sono loro diciamo qualche sospetto più che sospetto belle doca di più ecco e questo dimostra come oltretutto questa anche quest'altra pagliacciata dell'Europa che ci aiuta che è buona che ci dà i soldi del PNR sono soldi per buona sostanza in prestito che dovremmo restituire che ci dicono come spendere e oltretutto ecco appunto questo è un esempio di come dobbiamo spendere secondo loro i soldi con cui ci indebitiamo Franco grazie davvero per la tua testimonianza e per il fatto che su questo tema sei diventato veramente una delle fonti più autorevoli quindi avremo molto da fare su questo nelle prossime settimane stardo di altri su queste cose e anche che sei che sei che è una cosa che io apprezzo moltissimo di te sei come dire maniacale nel controllo del di ogni singolo aspetto di ogni singola fonte vai a ricostruire con un lavoro proprio secondo me tu da bambino facevi quei puzzle enormi dove c'erano 150 ci ho preso 150 milioni di pezzi andavi a metterne però dobbiamo ringraziarti di questo e lavoriamo tutti quanti su questo che è un obiettivo comune e che può veramente cambiare i rapporti di forza grazie Franco ci rivedremo molto presto e ci risentiremo molto presto su questi temi e ovviamente ci vediamo tutti il primo maggio mi raccomando ma ovviamente ma dovremmo fare una campagna noi dobbiamo fare una campagna a tappeto non ci deve essere neppure un gatto che non sappia quello che sta succedendo abbiamo questo obbligo proprio morale esattamente per una volta per una volta pensate esclusivamente a voi stessi siate egoisti al massimo se uno è egoista io penso che un egoista non vorrebbe mai più rivivere quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tre anni e non vorrebbe mai nemmeno ammalare di malattie assurde tipo Morbo di Marburg o chissà che cosa che poi potrebbero portare alla morte siamo egoisti cioè pensate Italia paese sismico fanno questi biolaboratori sono già insicuri dove sono sicuri dove dovrebbero essere sicuri figurarsi un laboratorio che non è manco così sicuro dove fanno queste cose qui e dove ci metterebbe un nanosecondo il virus arrivare da noi e in ovunque ogni ripeto questo concetto scusa se io ripeto queste cose ma sono importanti ogni focolaio di virus o batterio sono scoppiati almeno negli ultimi 15 anni sono scoppiati perché c'era un biolaboratorio che sviluppava delle armi a quel virus o a quel batterio quindi siate egoisti e il miglior modo per essere egoisti è andare il primo maggio a Pesaro e seppellire la città di persone automobili e pullman devono rimanere così impressionati che il laboratorio a Pesaro non si farà più se non si fa a Pesaro non si fa da nessuna altra parte dobbiamo in questo caso guarda ti dico la paura che hanno generato secondo me giocherà contro di loro tutto sta appunto nel lavorare in maniera seria e tutti quanti uniti mettendo da parte ogni personalismo Franco grazie di nuovo e ricordo a tutti quelli che ci seguono che se vogliono sostenerci in descrizione trovate tutti i link per darci una mano e su questo tema torneremo abbastanza spesso perché davvero è un momento che può fare da spartiacque grazie Franco e grazie a tutti ciao se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo grazie a tutti